Ciao ragazze e benvenuti in un nuovo video, sono Vitti871 e mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Il video di oggi è un altro video della serie Styling Basics, ossia quei video in cui vi mostro un lookbook con 6 outfit avendo in comune lo stesso capo. Nel caso di oggi parliamo del trench, vedrete 6 outfit in cui indosso questo trench, questo è un trench di Zara in taglia XS che ho comprato un po' di tempo fa. Devo dire che la mia ricerca del trench perfetto continua perché sono anni e anni che cerco il trench perfetto ma non lo trovo mai. Ne prendo uno, poi lo vendo perché non mi convince e così via, così credo almeno una decina d'anni. In realtà devo dire che anche un capo per quanto mi riguarda ho sempre fatto un po' di difficoltà ad abbinare perché quando lo voglio mettere magari fa troppo caldo oppure troppo freddo, per cui tendo poi sempre a optare per altri capi spalla. Mi sono però presa bene perché ho visto un sacco di outfit e poi quest'anno va veramente tantissimo il trench, per cui ho deciso di impegnarmi ad utilizzarlo. Speriamo che il tempo con una temperatura media a Quattorino tenga. Per cui vi ho creato 6 outfit, spero che possano essere di ispirazione per voi per capire come abbinare il trench. Per cui io vi lascio ai look, fatemi sapere se il video vi è piaciuto commentando qua sotto e mettendo il pollice in su. Mi raccomando ricordate di attivare anche le notifiche per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Ci sentiamo e ci vediamo anche su Instagram e vi lascio ai lookbook. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.